Musica Prosegue nel territorio di Castel di Iutica l'attività di sensibilizzazione per la raccolta differenziata al momento ferma intorno al 10%. L'ultima iniziativa informativa condotta dall'amministrazione comunale con la collaborazione degli alunni della scuola elementare ha interessato la frazione di Giumarra. Qui i ragazzi assistiti dai propri insegnanti e dall'assessore comunale all'igiene Mariella Turrisi hanno sollecitato i residenti a mettere in campo uno sforzo maggiore per attuare quotidianamente la raccolta differenziata. I giovani inoltre hanno assistito ad una lezione pratica sulla differenziazione dei rifiuti ed una teorica sul peso che hanno i costi dell'indifferenziata sulle tasse da pagare. Poi i partecipanti hanno giocato ad imbucato eco al fine di imparare la corretta differenziazione di vetro, plastica, carta e cartone nei rispettivi cassonetti. Nei prossimi giorni la campagna di sensibilizzazione coinvolgirà anche le popolazioni delle frazioni di franchetto e cinque grane. Il bilancio della campagna comunicativa fin qui svolta spiega l'assessore Turrisi è molto positiva perché i cittadini stanno rispondendo molto bene alle sollecitazioni che arrivano dai ragazzi e prossimamente continueremo la nostra attività nell'attesa però che Calat Ambiente ci supporti sia con nuovi cassonetti che con un piano informativo. Riscoprire la vita consacrata in una società che inizia purtroppo ad essere affetta dal virus del mercimonio del corpo. Questo è l'obiettivo che intende raggiungere la parrocchia matrice di San Michele di Ganzaria dove a partire da mercoledì 20 e fino a domenica si daranno diversi appuntamenti per celebrare il cinquantesimo anniversario della Costituzione Lumen Gentium in particolare del decreto sul rinnovamento della vita religiosa. Quest'iniziativa che ricade nell'anno da Papa Francesco che è dedicato alla vita consacrata e la cui conclusione avverrà il prossimo 2 febbraio avrà come riferimento l'apostolato di padre Massimiliano Colbe frate Francescano che morì nel campo di Stemino Polacco di Auschwitz al posto di un povero padre di famiglia. Durante le funzioni dei prossimi giorni la parrocchia festeggerà inoltre il cinquantesimo anniversario di consagrazione della concittadina Lucia Trupia appartenente da Laica all'Istituto Secolare della Milizia dell'Immacolata di Catania. Il programma del Triduo prevede celebrazioni eucaristiche, adorazioni, recita del rosario, la via Crucis e un incontro vocazionale con i giovani. Ci apprestiamo a vivere un evento molto importante per la nostra comunità spiega il parroco Donnino Maugeri perché inviteremo i giovani a riflettere seriamente sulla consagrazione virginale per un servizio a Dio e alla Chiesa. Oltretutto è un'occasione per lodare e ringraziare il Signore per averci dato tanti uomini e donne che spendono quotidianamente la propria esistenza per il Vangelo. Su iniziativa dell'Assessorato Comunale delle Politiche Sociali è in corso la distribuzione dei tesserini AST per gli anziani aventi diritto relativi al 2016. La consegna avviene negli uffici di via San Damari di Gesù, 90, ex Ducandato San Luigi, il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 13. Il cortometraggio Pacenzia di cui la Sicilia sfogge il viso intravedendo il cuore è stato scritto nel 2013 e prodotto nel 2014 dall'autore e regista Francesco Larrosa con le musiche di Carmelo Incognito e il supporto tecnico di Pietro Paratore. Una produzione indipendente incentrata sugli usi, i costumi, le abitudini, il bene e il male che questa terra, la Sicilia, sotto le sue mille sfaccettature, offre alla sua gente. Una storia di vita, contadini, picciotti, capibanda e quant'altro rappresentato in una pellicola di soli 29 minuti, filtrata con colori grezzo e girati ad altezza d'uomo. E il padrino, il protagonista, ormai anziano, che nebbe il mezzo di una riunione dopo aver ricordato a tutti i partecipanti momenti particolari del suo passato, colpisce per l'ennesima volta gli intervenuti con una decisione stavolta davvero inaspettata. Girato a Catani e provincia, luoghi culti e luoghi periferici, piazze architettose e degradati, ghetti e malfamati, mix perfetto che fa da contorno ad una realtà vissuta e presente. La tutela delle donne è il tema della conferenza che su iniziativa della FIDAPA di Caltagirone col patrocino del Comune si terrà a 22 gennaio alle 17 nel Salone di Rappresentanza Mario Scelba del Municipio. Dopo l'accoglienza della Presidente dell'Associazione Cettina Sottile Gammarata, relazionerà sul tema il magistrato Sabrina Gambino. Da venerdì 22 gennaio 2016 la festa di San Francesco di Paola ripropone alla nostra attenzione la figura del Santo della Carità, un Santo amato e ammirato da tutti in modo particolare dal popolo calatino. In questo giubileo della misericordia e nel bicentenario della nostra diocesi con la pratica dei 13 venerdì vogliamo riflettere su quei valori che gli uomini di oggi dopo il crollo delle tante certezze e di tante speranze vogliono vedere vissuti. Il servizio, la gioia, la fraternità e la carità. Il programma prevede alle ore 10.30 la Santa Messa, alle ore 18 il Santo Rosario e alle ore 18.30 la Santa Messa con invocazione dei 13 venerdì. Nel tempo di Quaresima alle ore 10.30 ci sarà la Santa Messa, alle ore 17.30 la Via Crucis, alle ore 18.30 la Santa Messa con invocazione dei 13 venerdì. Il pellegrinaggio delle Verginelle nei 13 venerdì sarà dalle ore 16 alle ore 17.30 a previo avviso. Venerdì 22 gennaio alle ore 21 si terrà il terzo appuntamento della stagione teatrale 2015-2016 del Teatro Politeama con lo spettacolo teatrale Lei è ricca, la sposo e l'ammazzo di Maria Scaletta con Gianfranco Iannuzzo e Deborah Caprioglio, regia di Patrick Rossi-Gastaldi. Grazie a tutti.